Presto ci manderanno le lastre. Ho detto di tenere pronta una S.O. Una S.O.? S.O. sta per sala operatoria? Senz'altro è il legamento collaterale esterno. Perché serve una S.O.? Può essere una cosa seria. Non è una cosa seria. Le fa male? No. E qui? Sì, sì. Mi... Come sta il signor Kimball? Stai. No, molto bene. Tu conosci... Posso riavere i miei pantaloni? Ah, al pronto soccorso non sanno proprio come trattare i miei. Sono tre anni che tu riesci ad evitare questo esame. Ho avuto molto da fare. Visto che adesso non hai niente da fare perché devi star qui a farti curare un ginocchio, visto che sei già spogliato, sembra proprio che sia giunto il momento di fare questo fatidico esame. Coraggio, ci vorranno soltanto tre giorni. Tre giorni? Ma... Hanno detto che gli aghi che usano oggigiorno sono completamente indolore. Ti spediremo la posta. Ah, dimenticavo. Visto che ci vuole lasciare al più presto, inizieremo subito a fare qualche esame. Adesso? Aumentano gli strumenti per le diagnosi, ma diminuisce il tempo per usarli. Perciò, muoviamo le gambe. Aumentano gli strumenti per le diagnosi, inizieremo subito, inizieremo subito, inizieremo subito, inizieremo subito, inizieremo subito, inizieremo subito. Aumentano gli strumenti per le diagnosi, inizieremo subito, inizieremo subito, inizieremo subito.